Dottore Claudio Saraceno da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo delle epistassi la perdita di sangue dal naso quanti bambini adulti anziani hanno questo problema e che di fatto non esistono soluzioni vere definitive tranne operazioni chirurgiche eccetera eccetera ma oggi puoi utilizzare l'ipnosi vera e professionale per eliminare questa perdita di sangue chiamata epistassi non credere al sottoscritto documentati vai sulle riviste scientifiche internazionali scritte da medici e scienziati di caratura internazionale come life and lancet e poi recati presso un professionista dell'ipnosi della tua zona inizia delle sessioni di prosi vera e professionale fammi tutte le domande del caso mandami un'email a ipnologia sociale di chiocere libro punti e io compatibilmente con i miei impegni con i miei tempi ti risponderò gratis per consigliarti soltanto per darti delle chicche di informazione e visita anche i miei profili e visita anche la mia fan page su facebook ipnosi ipnosi del dottor claudio saracino ha visto il mio sito internet www.imprologiassociati.com e iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dice se il dottore tradizionale fascia e condividi con amici parenti perché può essere quel quid che gli cambia la vita e visto anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dice se il dottor claudio saracino ripeto ancora una volta per l'ennesima potenza non credere al sottoscritto non credere come non credevano i fratelli white quando inventarono l'aereo una cosa più pesante dell'aria non può volare gli diceva la scienza la crema della crema dell'epoca eppure dopo è volato ok documentati non chiudere le porte della tua mente esiste l'ipnosi vera professionale non riprosi paura riprosi fuffa l'ipnosi da spettacolo o l'ipnosi conformista commerciale che può aiutarti nel tuo caso un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino al prossimo video